Mi presento, io sono Manolo Mureddu e sono qua oggi non come rappresentante di IRS o di Movimento 5 Stelle, ma come comitato denominato Cittadini a Difesa del Territorio. Sono un rappresentante sindacale, sono uno di quelli che ha fatto la lotta operaia in questi anni per mantenere un posto di lavoro in un territorio che purtroppo si trova in questo difficile periodo storico a non avere prospettive. Il problema dell'industria è un problema, come diceva l'amico, di coniugare la salute con il lavoro e con la prospettiva, però non ci sono alternative all'orizzonte perché non dobbiamo dimenticarci che viviamo in un'isola che soffre di gap infrastrutturali che derivano storicamente da delle scelte politiche che in passato hanno portato ad avere carenze per quanto riguarda la libera circolazione, non abbiamo la continuità territoriale, abbiamo un deficit infrastrutturale che purtroppo ci porta a essere di due terzi inferiori a qualsiasi altra regione italiana. Abbiamo un deficit per quanto riguarda la produzione, la competitività a livello di energia elettrica che non ci permette purtroppo di essere competitivi a livello internazionale perché non dimentichiamoci che sì, è giusto parlare di nuovi modelli di sviluppo, è giusto parlare di economia alternativa, però poi bisogna fare i conti con che cosa? Con la globalizzazione. La globalizzazione ci impone di essere competitivi. Quindi in Sardegna, prima degli slogan, prima di dire chiudiamo questo modello produttivo, prima di dire facciamo altro, bisogna essere in grado di porre le condizioni infrastrutturali e strutturali per poter competere. Quindi tradotto in poche parole, riuscire ad avere un'agenzia dell'energia sarda che permetta di dare delle tariffe adeguate agli standard dei paesi europei e internazionali, riuscire ad avere quelle infrastrutture necessarie che sono quelle portuali, ma io penso anche a quelle stradali, riuscire a risolvere il problema endemico dei trasporti e poi soprattutto il problema della tassazione che in Sardegna è elevatissima ed è più elevata in percentuale ad ogni altra regione italiana perché noi soffriamo il gap che è causato dall'insularità. Anche l'Unione Europea ci riconosce questa. In un rapporto da 1 a 40 noi siamo al 39 posto per l'isolamento e questo ci è riconosciuto a livello internazionale e può essere verificato tranquillamente nel rapporto sull'economia della Sardegna che è stato presentato 5 giorni fa. Questo isolamento quindi rende molto più elevati gli altri gap infrastrutturali, quello che riguarda la tassazione e ovviamente quello che riguarda anche i costi dei trasporti. Qual è l'obiettivo? Cosa bisogna perseguire per poter lanciare il nostro territorio a livello industriale ove industria significhi ovviamente rispetto anche della salute e dell'ambiente e ove industria significhi ovviamente anche evoluzione, evoluzione in senso positivo quindi cercando di costruire un'industria che si trasformi nel tempo gradatamente in un'industria ad alto valore aggiunto come succede in altre realtà, penso ad esempio l'Irlanda. In maniera tale da poter competere anche con i paesi emergenti. La strada deve essere quella quindi di renegoziare un patto con lo Stato centrale e soprattutto di porci in Europa in modo diretto con Bruxelles per poter negoziare e rappresentare bene quelle che sono le nostre istanze e i nostri interessi. Il principio di insularità che è riconosciuto a livello europeo deve diventare pratica. A quel punto noi potremo veramente riuscire a proporre un modello, non dico alternativo, parallelo perché l'industria in ogni economia moderna che si rispetti è un fattore determinante che generalmente si determina per almeno il 20% di tutti gli altri valori aggiunti costituiti dagli altri settori. In Sardegna noi purtroppo siamo solo al 10%, quindi non solo dobbiamo salvare l'industria ma dobbiamo potenziarla fino ad arrivare al 20% che è quel valore che esiste in tutte le altre regioni italiane del nord Italia e soprattutto della macroarea ricca della Germania che poi è quella che veramente trascina a livello economico tutta l'Europa. Quindi coniugare l'ambiente, il rispetto della salute con l'industria, evolvere in un'industria ad alto valore tecnologico che possa competere con le economie emergenti, rinegoziare il patto con lo Stato centrale e soprattutto con l'Europa per farci riconoscere finalmente questo principio di insularità che oggi non è stato riconosciuto e poi ovviamente raggiungere la sovranità, raggiungere la tutela. Prima si parlava in alcune interviste del fatto che bisogna coinvolgere la popolazione ma mi sembra abbastanza logico perché quando si hanno delle veleità differenti che magari vanno in ambito turistico o legato all'agroindustriale sono delle veleità che devono tenere conto del paesaggio e dell'ambiente. Quindi quando uno pur rispettando la legge nel suo terreno permette che vengono costruite delle paleoliche sta anche causando un danno che si chiama inquinamento visivo del territorio ed è un danno che va a essere spalmato in tutta la comunità quindi a maggior ragione ci dovrebbe essere un'assunzione di responsabilità di tutta la popolazione e dei rappresentanti istituzionali perché questo danno poi potrebbe pregiudicare ogni veleità come dicevo di tipo turistico, depreciare i vieni mobili e far sì che gli investimenti la trazione di investimenti esteri comunque diciamo esterni al territorio, alla Sardegna possa venire meno perché questo territorio poi non diventa appetibile da quel punto di vista.